di fare una carrellata ecco la Ligia ci viene in aiuto una carrellata di quelle che sono state le gare di questo weekend quindi le gare di sabato con Parma Milan 2-1 e qui insomma dopo affronteremo un attimino quello che è il momento del Milan l'Udinese Lazio anche in questo caso la Lazio ha perso per 2-1 l'Inter che insomma riprende quello che aveva lasciato l'anno scorso con un netto 2-0 sul Lecce e il Monza che perde in casa e questo secondo me è una brutta sconfitta per 1-0 contro il Genoa mentre poi abbiamo le gare di domenica gare di domenica che anche in questo caso sono state molto interessanti con Fiorentina e Venezia che hanno pareggiato 0-0 Torino-Atalanta un'ottima vittoria del Torino per 2-1 che conferma quello che di buono si era già visto nella prima giornata con un pareggio all'ultimo istante del Milan appunto per 2-2 in Napoli di Conte che finalmente trova la prima vittoria secondo me direi convincente per 3-0 contro il Bologna Roma la Roma che perde in casa e anche in questo caso ragazzi un piccolo dramma dopo lo vedremo per 2-1 contro l'Empoli per poi insomma arrivare alle gare di ieri dove il Cagliari è pareggiato col Comun a 1 e la Juve ha direi stravinto meritatamente per 3-0 contro il Verona che cosa mi sai dire di queste partite Max? Soprattutto io direi di soffermarci sulla brutta sconfitta del Milan anche se se non sbaglio forse con te l'altra volta settimana scorsa abbiamo detto che il Parma non sarà una squadra cuscinetto la classica squadra che arriva dalla Serie B che fa il suo campionato un po' così ecco nelle zone basse della classifica quindi Milan brutta sconfitta Inter ottima vittoria Lazio e Monza brutta sconfitta Sì 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 sono assolutamente d'accordo intanto va sottolineata la prestazione del Parma che torna in Serie A e nelle prime due giornate affronta Fiorentina e Milan ne fa quattro punti quindi tanto di cappello al Parma chiaramente la vittoria non è solo grande merito del Parma ma anche tanto de merito del Milan un Milan che mi sembra poco unito poco squadra specialmente in fase difensiva non vedi mai fare quel metro in più quella rincorsa in più anche dai giocatori che dovrebbero essere un po' i leader i simboli lo stesso Teo Hernandez mi sembra un po' compassato è vero che poi sul gol del Milan naturalmente l'azione si sviluppa a sinistra Conteo e Leao che sono le armi più pericolose a disposizione di Ponseca però poi difensivamente è un Milan un po' piatto un po' morbido non ha quel sangue negli occhi che dovrebbe caratterizzare le big specialmente se hai già fatto un mezzo passo falso nella prima giornata la seconda mi sarei aspettato un po' più di cattiveria ecco invece ho visto ancora un Milan un po' leggero meglio l'Inter che anche arrivava da un mezzo passo falso invece ha gestito bene la gara con Lecce un gol per tempo non ha praticamente mai subito un tiro in porta non è stata una gara esattamente spettacolare però comunque una vittoria agevole mettiamola così Monza e Lazio invece perdono punti laddove forse ci saremmo aspettati che entrambe almeno un punticino lo potessero portare a casa la Lazio aveva fatto molto bene la prima giornata contro il Denezia e invece cade a Udine sempre un campo ostico comunque quello di Udine una squadra molto fisica molto rocciosa e ha messo in difficoltà la Lazio e i Demi Genoa che continua a mettere in difficoltà chiunque dopo il pareggio strappato in extremis all'Inter vince anche a Monza quindi 4 punti nelle prime due giornate contro i campioni d'Italia e una trasferta quindi buona partenza anche del Genoa privato ricordiamolo sempre di Gudmundson e Retevi quindi tutt'altro che scontata la partenza con 4 punti in due giornate buono Genoa buono Pinamonti ha trovato il gol ha fatto un bel gol anche devo ammettere Pinamonti Lucca e Pinamonti si sono sbloccati vediamo se questo può essere per loro l'anno un po' come dire della consacrazione se vogliamo sono due giocatori che qualcosa promettono lasciano intravedere dei colpi non so se potranno mai diventare il numero 9 della Nazionale glielo auguro vediamo se quest'anno riusciranno magari andare entrambi in doppia cifra non sarà facile ma ce la potrebbero fare assolutamente sì sono d'accordo con te su tutta la linea quindi non non perderei altro tempo su queste partite che ecco l'unica cosa che mi balza un pochettino la mente è questo Milan che è veramente spento ce lo vedo proprio spento quindi dal punto di vista tecnico insomma sicuramente non è inferiore al Parma però quando come dicevi tu quando non hai sangue negli occhi quando non corri c'è poco da fare in Serie A ormai ma in generale quando in questo calcio molto fisico se non corri non vai da nessuna parte e lo vediamo con la Juve di quest'anno che rispetto all'anno scorso gradisce molto alta insomma ha proprio un approccio alla partita completamente diverso come appunto indipendentemente dal risultato ma come la prestazione della squadra sia completamente diversa no? detto questo l'Inter appunto ricomincia lì dove aveva lasciato l'anno scorso l'Asse Monza appunto secondo me è un piccolo disastro in questa giornata anche se ovviamente il Genoa è una squadra di tutto rispetto ma non è il Genoa dell'anno scorso quindi dal Monza il Monza secondo me quest'anno con la nuova guida tecnica giocatori che sono partiti eccetera farà molta fatica secondo me quest'anno il Monza non so se ti ricordi ancora prima dell'inizio del campionato io l'avevo detto sarà una squadra secondo me che lotterà per non retrocedere io mi sbilancio ma la vedo così ecco detto questo passerei le gare di domenica che hanno visto anche in questo caso dei risultati sicuramente inaspettati e mi riferisco alla bellissima vittoria del Torino contro contro l'Atalanta la bellissima vittoria dell'Empoli contro contro la Roma e finalmente insomma la vittoria del Napoli di Conte contro Bologna cosa mi sai dire di queste partite ma sono arrivato piuttosto spiazzato dai risultati di domenica nessuno di questi quattro risultati secondo me era facilmente prevedibile anche la vittoria del Napoli che aveva bisogno di vincere ma non era per niente scontato e soprattutto non era scontato che arrivasse con un rotondo 3 a 0 con una bella prestazione con vincente infatti se ti ricordi avevamo visto le quote le quote effettivamente non erano così così nette erano anche abbastanza altine per quanto riguarda la vittoria del Napoli quindi sì sono completamente d'accordo con te non era assolutamente un pronostico facile sì e poi secondo me la nota che va sottolineata di più di questo 3 a 0 del Napoli è il ritorno di Kvaraskega che ha giocato una partita clamorosa non so se ha avuto modo di vederla o anche se non ha dimostrato che tecnicamente è il leader di questa squadra che il 90% delle azioni pericolose che crea il Napoli devono passare dai suoi piedi che sia per un assist o che sia per il gol è fondamentale ha messo lo zampino su tutti e tre i gol è vero che nell'ultimo subentra anche in maniera importante Neres però scambia con Kvaraskega e va sul fondo assist per Simeone secondo me il Napoli non lo darei assolutamente per morto cioè sebbene abbia iniziato con grande difficoltà secondo me è una squadra che nel momento in cui raggiunge la quadra nel momento in cui troverà la solidità magari avrà un numero nove come vuole Conte i soliti discorsi che stiamo facendo ormai da settimane arriverà il momento in cui con una partita settimana giocare con Napoli sarà veramente veramente tosto per chiunque non penso riuscirà a essere competitivo per lo scudetto ma per il quarto posto non ho nessun dubbio che Napoli sarà in lotta fino alla fine e anche gli altri risultati onestamente mi hanno abbastanza spiazzato perché mi sarei aspettato una vittoria della Fiorentina mi sarei aspettato una vittoria della Roma e non avrei immaginato una sconfitta dell'Atalanta Torino sebbene il Toro si sa che in casa è difficile da battere per tutti quanti però è anche vero che una vittoria interna un 2 a 1 così non me lo sarei aspettato quindi domenica grandi ribaltoni insomma ma sì anche perché io soprattutto lo sai avendo il papà il papà Granata insomma la partita l'ho vista e ti dico che paradossalmente il 2 a 1 sta anche molto stretto al Toro nel senso hanno fatto veramente una partita una partita secondo me spettacolare nel senso che molto molto propositivi molto molto attenti anche perché comunque l'Atalanta è sempre l'Atalanta quindi devi stare anche molto attento in fase difensiva uno Zapata straripante l'abbiamo detto comunque se non sbaglio settimana scorsa Zapata ragazzi è fortissimo secondo me senza nulla togliere il Torino che ovviamente lo vediamo dai piazzamenti che ha avuto negli ultimi anni è una squadra comunque di metà classifica che arriva sempre lì ottavo nonno decimo posto Zapata secondo me ragazzi è un attaccante da primi quattro posti uno Zapata al Milan io lo vorrei per fare un esempio uno Zapata al Napoli io lo vedo benissimo cioè quindi ecco secondo me questo Torino se dovesse continuare così soprattutto l'approccio che ha le partite perché insomma ragazzi il Torino ha giocato con Mila in Atalanta ha fatto quattro punti e rischiava di farne sei quindi quello che tu dicevi dell'ottima partenza del Parma parliamo anche del Torino allora perché ragazzi Atalanta e Milan che l'anno scorso sono arrivati in Champions che quest'anno sono in Champions Atalanta campione insomma ha vinto l'Europa League e insomma il Torino quest'anno ha cambiato tanto tra giocatori Vanoli insomma allenatori eccetera ha fatto ragazzi due gare due gare spettacolari e rischiava di insomma di essere in testa alla classifica insieme alla Juve al termine della seconda giornata quindi io direi ottimo Toro ottimo Napoli Fiorentina che con questi due pareggi secondo me ricalca un pochettino quello che quello che è il campionato dell'anno scorso insomma la Fiorentina un po' come il Toro è sempre lì o tra l'ottavo e il decimo posto zona conference giusto per capirci ovviamente in questo caso quest'anno secondo me un pochettino secondo me dovrebbe alzare un pochettino l'asticella perché comunque il mercato insomma è stato anche abbastanza generoso qualcuno è partito vediamo Nico González qualcuno è arrivato ma il grosso bug di questa di questa domenica è la sconfitta della Roma che secondo me era inaspettata un pochettino da tutti ecco tra tutti questi risultati insomma il Toro in casa ci sta che possa fare il risultato con l'Atalanta in Napoli ci sta ovviamente che vinca col Bologna il Fiorentina ripeto un pareggino secondo me ci può anche stare per quello che per quello che insomma la squadra ma la Roma non mi può perdere in casa contro l'Empoli con tutto rispetto per l'Empoli che l'Empoli insomma lo sappiamo tutti lotta per non retrocedere o comunque è nella parte destra della della classifica quindi io non so se il caso di Bala ha un po' destabilizzato l'ambiente insomma se si è messo troppo focus su questa cosa e si è perso il vero focus ovvero insomma la preparazione della partita il fatto di essere sempre eh sì ok di Bala però poi ci sono anche altri dieci giocatori che devono andare in campo e comunque quello che dicevi tu per il Milan secondo me vale anche per la Roma cioè la Roma secondo me deve un attimino resettare quello che è il calciomercato perché a sto punto il 27 agosto avendo Di Bala diciamo confermato non credo che ci siano grossi altri movimenti sia in entrata che in uscita per quanto riguarda la Roma quindi ecco secondo me si deve un pochettino azzerare detto questo se non sbaglio se non ero ha fatto un punto in due partite e quello che dicevo l'altra volta è che comunque i punti sono punti ragazzi quindi i punti se pensiamo che già sei a meno cinque dalla vetta insomma dopo due partite non sono pochi ecco quindi se giustamente De Rossi parte per stare con le prime insomma dalla prossima partita non può assolutamente sbagliare deve portare tre punti a casa questo è questo è questo è certo arriviamo alle gare di lunedì e direi un pareggino che fa comodo secondo me a tutti e due Cagliari e Como insomma muovono la classifica e poi veniamo al 3-0 della Juve sul Verona cosa cosa ne dici di questa Juve di Tiago Motta e soprattutto della partita di ieri che secondo me è stata sulla falsa riga di quella col Como ecco sì sì io sono rimasto piuttosto stupito io non ti dico la verità perché se col Como mi aspettavo una partenza forte e una bella Juve a Verona non era per niente facile la Juve era in cinque anni che non vinceva Verona l'Ellas arrivava dal 3-0 al Napoli insomma c'erano tutti i presupposti non dico per lo scivolone bianco-nero ma quantomeno per una partita è difficile sì 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 assolutamente e invece ho visto una Juve di nuovo brillante convinta delle proprie idee aggredisce in alto come dicevi tu e quando la palla nei piedi ha le idee chiare non è mi sta piacendo molto mi sta piacendo molto è presto chiaramente per sputare sentenze di perfezione però partire meglio di così era difficile sei gol fatti zero subiti complimenti eh sì sei gol fatti zero subiti da sola in testa alla classifica perché l'unica a ponteggio pieno dopo due giornate e come dici tu finalmente io aggiungerei si vede una squadra che sa cosa deve fare in campo poi sicuramente arriveranno in periodi bui periodi di down Blauic che non segnerà per dieci partite di fila insomma questa ormai è la normalità però ecco tu vedi una squadra che comunque non dimentichiamoci ha tantissimi ragazzini in campo perché questo comunque bisogna sempre ricordarlo cioè la Juventus in campo attualmente ha tantissimi giocatori dal 2000 in poi e quindi secondo me questa cosa è da tenere in considerazione e la cosa che a me personalmente piace non tanto la tifosa della Juve ma la tifosa del calcio mettiamola così e sentire un allenatore che ti dice ragazzi se un giocatore forte che sia giovane o che abbia 30 anni bisogna farlo giocare e questa è la cosa che e questo secondo me la marcia in più che la Juve può e deve avere quest'anno chiamiamola meritocrazia chiamiamola gestione all'inglese che comunque sai all'estero hanno sempre quella propensione a buttare nella mischia un giocatore se è forte prendiamo Nico Williams prendiamo Jamal insomma ragazzi miei se un è forte deve giocare punto indipendentemente dal fatto che abbia fatto non so l'anno scorso nella next gen piuttosto che in serie C da qualche altra parte perché se fai parte del gruppo Juve e ti agomotta comunque due mesi tre mesi che ti vede in allenamento se ti fa giocare un motivo c'è perché comunque sei la Juve quindi secondo me è proprio l'approccio infatti lo diceva anche Vlaovic che insomma in alcune domande non so se hai visto qualche intervista hanno provato a chiedere a Vlaovic insomma a fargli dire le differenze tra Tiago Motta e Allegri perché sono secondo me lampanti e quindi di conseguenza i giornalisti ci provano lui ovviamente non dirà mai e non ha mai detto che Tiago Motta insomma l'impostazione di lavoro di Tiago Motta sia migliore di quella di Allegri ma l'ha fatto capire cioè comunque ha detto che è la squadra gioca più alta ci sono più giocatori che accompagnano la zona insomma offensiva che lui non è da solo dalla tre quarti in avanti giustamente a inventarsi la giocata piuttosto che il gol piuttosto che quindi questa è una cosa che sicuramente fa la differenza e che ha cambiato la Juve insomma in queste prime giornate detto questo siamo all'inizio vedremo un attimino ecco con la Roma sarà un bel banco di prova a proposito prima dicevamo De Rossi dovrebbe fare i tre punti nella prossima giornata insomma la prossima giornata c'è Juve Roma quindi sicuramente non è facile comunque indipendentemente dai tre punti se De Rossi dovesse strappare con una bella prestazione perché poi c'è modo e modo di pareggiare modo e modo di perdere la prestazione comunque ci deve essere contro la Juve a Torino sicuramente non sarà facile e vedremo un attimino come si presenterà a Torino